pepero il ragazzo delle ande segue anche tu le avventure di pepero il ragazzo delle ande tutta la serie tv in dvd parte anche tu alla ricerca del misterioso tesoro di eldorado il condor dorato ti indica la via da seguire i dvd li trovi nei negozi specializzati e digital store pepero il ragazzo delle ande